Nubi in arrivo da Panama vanno addensandosi sulla City londinese. Lunedì, dopo le rivelazioni dei documenti dello studio legale Mossack Fonseca, banche e istituzioni finanziarie hanno ricevuto una lettera firmata dalla FCA, ovvero l'autorità regolatoria del settore, la quale, da loro tempo fino al 15 di aprile, permette nero su bianco qualsiasi legame con lo studio legale panamense. Non solo, le 20 società che hanno ricevuto la missiva dovranno anche esplicitare le misure prese a riguardo. Tra i nomi ci sarebbe anche quello di HSBC, istituto di credito che negli anni ha creato migliaia di strutture offshore per conto dei clienti. Già l'anno scorso era emerso come lo stesso numero uno Galliver avesse creato una società, solo per ragioni di privacy si era difeso il manager.